Questo programma è presentato da... Dio mattone, dio yogurt, dio banana, sono tutti di, ma di diverse categorie. Ciao ragazzi, allora ci ritroviamo. Come ben sapete non sono una persona che parla delle vostre cose personali, delle mie cose personali, ma oggi è il mio compleanno. Come ogni compleanno che ci si rispetta, ci vuole un regalo degno. Regalo per me, ma anche per voi, un tutorial su come smettere di vedere i video di Anthony di Francesco. Basinare, molto semplice. Ovviamente se ci sarà supporto, saliremo sui 100.000 like. Anche un tutorial su come dimenticare la sua faccia. Comunque è facile, che cosa ci basta? Dio alla panza! Ci basta questa, molto semplice. E ora, però dobbiamo fare il silenzio. Ecco, un esempio di Milario, qui vedete, colta dal virus. Missione di rispetto, ci penso io, non vi preoccupate. Ci basta solo una mazza. Io sto con Ciccio, eh!